se ascolti con attenzione il passato ti sussurra siamo qui per albus silente sarebbe mio fratello il mondo com'è si sta disfacendo grindelwald lo sta dilaniando con l'odio se vogliamo sconfiggerlo dovrai fidarti di me questa è la squadra che abbatterà il mago più pericoloso da oltre un secolo un magizoologo la sua indispensabile assistente un mago discendente da un'antica famiglia una professoressa e un babbano silente ha chiesto di darti una cosa jacob hai voglia di scherzare stiamo messi alla grande si va a salvare il mondo quindi le cose non sempre sono come appaiono tu scivola ma delicatamente io scivolo timido la nostra guerra ai bambani provincia cos'è questo posto è la stanza di cui necessitiamo corretto tre punti per tasso russo asso è pericolosa è molto potente se cade nelle mani sbagliate è un bel guaio dove l'hai presa regalo di natale grazie a tutti